La DVM Trattamenti, da sempre particolarmente attenta alle esigenze dei propri clienti, ha da poco messo a punto un sistema per il pretrattamento di materiali quali cotto, terracotta, marmo e pietra, in modo da offrire una qualità sempre maggiore, coniugata con la rapidità e la sicurezza della messa in opera. La DVM Trattamenti Vediamo un esempio di come, versando del liquido sulla mattonella trattata, in questo caso acqua, lo stesso non venga impregnato dall'articolo e la pulizia risulti efficace e senza aloni. In questo caso verseremo dell'acqua su una mattonella non trattata e noteremo come il liquido venga subito impregnato dalla mattonella e anche la pulizia risulti poco efficace e dannosa. La DVM Trattamenti La DVM Trattamenti In questo caso verseremo dell'olio sulla mattonella appena trattata. Noteremo come il risultato sia perfetto, senza aloni né macchie di impregnazione dovute al liquido versato. La DVM Trattamenti Metteremo ora a confronto due tipi di mattonelle. Una non trattata, l'altra con trattamento prima della posa in opera DVM. E' facile vedere come nel primo caso l'acqua venga impregnata lasciando aloni e macchie sull'articolo, mentre nel secondo caso l'acqua scivola via. La DVM Trattamenti 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 Grazie a tutti.